è venuta cantando prevalentemente gospel, poi si è trasferita a New York, poco più che adolescente e in quel contesto è entrata a contatto con il jazz ed il blues ha cominciato a fare delle tournee internazionali, niente poco di meno che con baddie guy cioè non uno qualsiasi e queste tournee l'hanno portata ad avvicinarsi sempre di più a Parigi dove poi ha scelto di vivere, quindi lei attualmente risiede a Parigi, ha trovato la sua dimensione lì nella sua carriera ha avuto il privilegio di aprire per grandi icone tra i quali James Brown e baddie guy Matt Bianco, Louisiana Red e ce ne sono tanti altri fa tour negli Stati Uniti e in gran parte dell'Europa e la presento con una sua citazione sono nata e cresciuta in Florida, negli Stati Uniti il sud mi ha definito e raffinato come puro zucchero di canna selvatico un giorno ho incontrato il blues e quando è entrato in casa si è seduto e da allora non è più andato via signore e signori, Shanna Watertown non è più andato via